È inevitabile che ognuno porti qualcosa di diverso, ognuno ha la sua visione del calcio, abbiamo cambiato modulo e anche tipologia di gioco, perché ovviamente il mister ha un altro tipo di filosofia e stiamo cercando appunto di metterla in atto, credo che contro l'Ascoli si sia visto qualcosa di buono al di là del gioco, proprio sotto l'aspetto dell'atteggiamento e della mentalità, perché riuscire a tenere anche una partita anzi e migliorarla e migliorare il vantaggio contro l'Ascoli, che è un'ottima squadra, in un uomo in meno per praticamente un tempo è anche abbastanza un segnale importante. Per quanto riguarda il mio ruolo siamo in difficoltà perché era fuori del prete, sta rientrando, quindi ci mancherebbe altro dare una mano alla squadra. Poi il mio ruolo è la mezzala, rimane quello, sento di esprimermi meglio lì, poi se il mister ha la fiducia nei miei confronti di poter giocare anche in Corrello lì mi fa un'ora e basta. Allora, il Venezia sì, l'ho visto a fase alterna, ho visto la partita d'andata perché ancora non era arrivato e è una squadra che cerca di giocare a calcio, che ha dei buoni giocatori, ho due ex compagni là che sono Cremonesi e Felicioli. Mi dicono che ha un ottimo allenatore e che appunto fa del gioco il loro credo. Noi dovremmo essere bravi ad andare lì e cercare di riproporre quello che abbiamo fatto sabato contro l'Ascoli. Grazie.